Lui è Deddy, è stato investito da un'auto e ricoverato in fin di vita sul ciglio di una strada. A caso di quel brutto incidente, ha perso l'uso delle zampe posteriori. Noi l'abbiamo curato e abbiamo acquistato per lui un carrellino che gli consente di correre e giocare insieme ai suoi amici. In questo momento ci sono animali con le ore contate. Salvali insieme a noi. Fino al 18 ottobre puoi donare con un sms o chiamando da rete fissa a 45586. Grazie a te potremo acquistare autombulanze veterinarie specializzate per fornire assistenza agli animali in difficoltà. Ovunque si trovi.